Il gatto Garfield, protagonista di cartoni e film, esiste davvero e abita sul lago di Como. Il suo vero nome è Orazio, Elena Fusai. Lui si chiama Orazio e pesa più o meno 15 kg. Si è conquistato la prima pagina dei quotidiani londinesi. È il secondo micione più grande al mondo. Il telegrafo addirittura ironizza se questi siano gli effetti della dieta mediterranea. Orazio vive a Upilio, paese di 2000 anime nel Comasco. Adora le coccole e anche le fusa sono formato gigante, ma non è un golosone come il Garfield dei Cartoni. Non è un mangione, cioè più che altro lui è un dorbiglione, ovviamente non si muove molto, è un poltrice e basta. È sano, anzi sanissimo, dice il suo veterinario, ma non è agile come gli altri gatti. Trovatello è arrivato a casa Santarelli tre anni fa, quando di chili ne pesava già nove. Trascorre la sua giornata adagiato in poltrona o in una cuccia che raffigura il suo nemico di sempre. Abbiamo dovuto prendere questo cuscino per cane, perché non esistono cestine per gatto abbastanza per lui, abbastanza grandi per lui. Difficile convincere Orazio a fare quattro passi, neppure corrompendolo con una ciotola. Chissà, forse lui non avrebbe voluto diventare una star, perché ora che è finito sotto i riflettori, dovrà mettersi a dieta.